qualche temporale in più ma sempre prevalenza di sole e caldo martedì 9 luglio soleggiato e sereno con qualche velatura in transito temperature stazionarie mare da poco mosso a quasi calmo mercoledì 10 luglio crescente variabilità con locali piovaschi alternati a schiarite minime senza variazioni massime in contenuta diminuzione mare poco mosso giovedì 11 luglio tempo da variabile a instabile con precipitazioni intermittenti anche a carattere di rovescio minime invariate massime in lieve abbassamento comprese fra i 20 e 28 gradi mare calmo venerdì 12 luglio variabile con innocue nubi sparse temperature pressoché stabili la marea di martedì 9 luglio è normale la massima alle 23 45 70 centimetri la minima alle 18 e 15 10 centimetri minuti